Se la direzione del PD di lunedì a Roma si è conclusa con una sostanziale vittoria del segretario Renzi, la mozione sulla riforma del lavoro è passata con l'86% dei consensi, anche se i conti si faranno nelle aule del Parlamento, le acque si stanno facendo sempre più agitate in Toscana, in particolare a Sesto Fiorentino e a Biareggio. Il comune alle porte di Firenze, guidato da Sara Biagiotti, neosindaco, fresco anche di nomina di Presidente dell'Anci Toscana, si trova una parte del suo PD contro. Il rischio è una crisi profonda che potrebbe portare addirittura al commissariamento del comune. L'ultima frattura si è avuta in Consiglio Comunale sull'ipotesi di aumento dell'addizionale IRPEF. I sindaci della Piana, Prato incluso, si schierano con Biagiotti e prendono posizione tutti insieme. Quello che sta avvenendo in questi giorni, dicono, riguarda tutti noi e non soltanto la realtà sestese. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Facebook scrive La città metropolitana ha bisogno di stabilità. Non possiamo partire con una crisi politica e istituzionale in un comune importante. I cittadini di Sesto, con una larghissima maggioranza e con grande chiarezza, hanno affidato la guida dell'amministrazione a Sara Biagiotti. Interromperla dopo pochi mesi sarebbe un fatto grave, con fido che prevalga il senso di responsabilità. Il PD di Sesto risponde e dice «Non è una guerra fra bande, ma, si legge in un comunicato, vogliamo essere uno stimolo per l'amministrazione comunale». Ma ha reagitato, se non in tempesta, a Viareggio, dove il sindaco Leonardo Betti sta combattendo con un comune in dissesto e ha chiesto le dimissioni degli assessori, dei presidenti delle società partecipate, dei membri del CDA e delle fondazioni, in modo da poter ridisegnare un nuovo programma amministrativo. Se non saranno loro a farlo spontaneamente, il sindaco userà il suo potere per revocare loro le deleghe. Solo alcuni al momento hanno accolto l'invito. Intanto domani ci sarà il Consiglio Comunale proprio per decidere sul dissesto del comune. Sembra che per la terza giunta Betti sia in arrivo un personaggio autorevole, gradito al segretario regionale Dario Parrini. Da indiscrezioni sono stati fatti i nomi dell'ex sindaco di Fucecchio, Claudio Toni, e di Paolo Reggini, già sindaco di Castelfiorentina, attuale presidente di Pubbia Ambiente. Il quadro è molto incerto. L'unica certezza è che i via Reggini pagheranno per i prossimi cinque anni le tasse al massimo di legge.